Lucas Markham e Kim Edwards sono stati definiti come gli assassini di Twilight nonché come coppia di più giovani assassini della storia del Regno Unito Ma cos'è accaduto e perché i due vengono ricordati così? Questa è la storia di due quattordicenni che hanno agito con una freddezza difficile da immaginare Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi Se vi piacciono le cose macabre, paranormali e il true crime allora siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui Per la storia di oggi dobbiamo tornare nel Regno Unito nella piccola città di Spaulding, nel Lincolnshire Ultimamente mi sono reso conto che nel Regno Unito, raga, sono avvenuti alcuni dei casi più strani e macabri di cui abbia mai sentito parlare Se ricordate per esempio il caso di Brianna Jai, davvero una capricciante oppure quello di Kelly Ann Bates, forse addirittura più sconvolgente Ecco, questa storia non sarà da meno Prima di cominciare però vi ricordo velocemente che su Pampling, trovate il link in descrizione potete prendere le magliette che indosso nei video come questa qua, super bella Nel sito però ci sono tantissime altre cose fighe, felpe, tazze, calze, zaini, c'è davvero di tutto e tutto ha delle grafiche spaziali, ve lo giuro, sono sicuro che vi piaceranno quindi date un'occhiata se vi va e ricordate se prendete qualcosa di inserire il codice ANDREW per ricevere anche delle calze che sceglierete voi totalmente in omaggio grazie per l'attenzione, come sapete da praticamente quando ho aperto il canale Pampling è sempre stato un punto fisso che mi ha sempre aiutato parecchio ed è anche grazie a voi questo, ovviamente quindi grazie davvero di cuore chiunque guarda i miei video e chiunque prende qualsiasi cosa da Pampling aiuta davvero tanto il canale detto questo, scusate le due parole in più spese per questa parentesi direi di cominciare non prima di dirvi di non preoccuparvi per i miei capelli saranno così solo per oggi perché poi vado a tagliarli iniziamo torniamo subito a Spaulding una piccola cittadina che conta poco più di 30.000 abitanti e che sorge sul fiume Welland si tratta di un luogo davvero immerso nel verde guardando le foto su internet possiamo subito capire che si tratta della tipica cittadina inglese circondata dalle infinite praterie e dalle campagne un posto relativamente tranquillo insomma un luogo sereno ideale specialmente per crescere una famiglia ecco, in questa piccola città vive proprio una delle famiglie di cui parleremo oggi composta dalla mamma Elizabeth Edwards e dalle figlie adolescenti Kim e Katie parliamo quindi un po' di tutte loro Kim e Katie sono due sorelle che sono cresciute praticamente solo con la loro mamma Elizabeth il padre, un uomo di nome Peter Edwards aveva deciso di abbandonare la famiglia quando le bimbe erano ancora molto piccole secondo quanto ho trovato su internet l'uomo era tossicodipendente e gli episodi di violenza da parte sua in casa erano all'ordine del giorno quindi direi che è un bene se se n'è andato a sto punto Kim e Katie però durante la loro infanzia patiscono molto l'abbandono del padre e in particolare Kim, quella più grande finisce con avere una relazione piuttosto turbolenta pure con sua madre Elizabeth secondo le dichiarazioni della stessa Kim le due non erano mai andate d'accordo c'era continuamente tensione in casa per qualsiasi cosa anche per veramente le cose più piccole all'età di soli otto anni, pensate, Kim ha una brutta discussione con sua madre e per qualche motivo le due litigano probabilmente a seguito di alcuni capricci della bambina e sua madre però dopo aver perso la pazienza le ha tirato uno schiaffo colpendole la mascella in maniera piuttosto violenta Kim ovviamente a seguito di questo fatto comincia ad urlare dal dolore e Elizabeth in realtà solo in quel momento si rende conto di aver forse esagerato un po' e quindi contatta subito lei un'ambulanza poco dopo come penso si sarà immaginata anche lei vengono contattati anche i servizi sociali dalle fonti che ho trovato su internet ho letto che Elizabeth non era affatto una madre violenta e a quanto pare questo è rimasto un incidente isolato non voglio assolutamente giustificare il gesto sapete che per me la violenza non è mai la soluzione soprattutto quando si tratta di educare dei bambini sto solo cercando di dire che Elizabeth probabilmente in quel momento si sentiva davvero al limite era una madre single che doveva tirare su due bambine due bambine di cui una già a quell'età si era rivelata essere una vera e propria peste diciamo così ovviamente Kim insomma non dovrebbero capitare episodi del genere ma purtroppo capitano e possono capitare in realtà quasi a chiunque di nuovo non la sto giustificando per lo schiaffo violento sto solo cercando di fare chiarezza sulla sua situazione non era in generale una madre violenta ad ogni modo a causa di questo specifico incidente le due bimbe vengono date in affidamento per un periodo e qui ho trovato parecchie fonti discordanti nel senso che tutti gli articoli inglesi dicono che le bambine sono state date ad una famiglia un'altra famiglia per sei mesi mentre tutti gli articoli invece italiani dicono che le bambine sono state date in affidamento solo per quattro mesi attingerei comunque di più dalle fonti inglesi in questo caso dato che i fatti sono avvenuti lì ma comunque siano andate le cose le bimbe di fatto stanno via di casa per un po' e tutto ciò segnerà tantissimo le due sorelle ma in particolare sarà Kim quella a rimanere più traumatizzata da questa esperienza Kim infatti si è sempre rivelata essere quella un po' più ribelle e più lagnosa passatemi il termine un po' perché ognuno di noi ha un carattere diverso ma anche perché sicuramente è stata quella più segnata dall'abbandono del padre e diciamo che non è mai riuscita davvero a superarlo quindi come si poteva affrontare tutto questo? è una situazione molto delicata no? ecco sicuramente ci sarebbe stato bisogno di un aiuto a livello psicologico per la piccola Kim tuttavia in nessuna fonte ho letto che Elisabeth ha effettivamente preso in carico questa situazione facendo aiutare sua figlia e anche per questo l'ostilità che la bambina provava nei suoi confronti non ha fatto altro che crescere e aumentare anno dopo anno Katie invece la sorella minore reagirà in maniera completamente diversa a seguito di questo incidente dopo i mesi di affidamento lontana dalla mamma quando le due si riuniscono il loro rapporto letteralmente sboccia e diventano praticamente come migliori amiche instaurano un rapporto di grande fiducia, lealtà, amicizia tra mamma e figlia sono quasi certo che Elisabeth si sentisse terribilmente in colpa per ciò che era successo e non vedesse l'ora di poter riabbracciare le sue bambine ma come immaginerete la reazione di Kim al ritorno della mamma è stata decisamente diversa rispetto a quella della sorellina infatti il rapporto tra Kim e sua madre da quel momento peggiora sempre di più dopo essere tornata a casa Kim comincia a covare sempre più odio nei suoi confronti e questo non fa altro che far avvicinare ancora di più Elisabeth e Katie tutto questo ovviamente crea una dinamica malsana in famiglia una dinamica per cui più Katie si avvicina alla madre più Kim non si sente capita e nutre sempre più risentimento nei suoi confronti poi ovviamente immaginate tutto questo visto dagli occhi di una bimba che non è mai riuscita a superare l'abbandono del padre e che probabilmente in un certo senso incolpa anche la stessa madre per questo Kim poi oltre a provare molto rancore nei confronti della mamma inizia a provare anche una sorta di rabbia nei confronti della sorella Katie che sicuramente invidiava per il forte rapporto che aveva instaurato con Elisabeth insomma a seguito di questo incidente si crea una vera e propria rottura all'interno dei rapporti di questa famiglia una rottura che non farà altro che aumentare nel corso degli anni quando Kim entra negli anni dell'adolescenza diventa una vera e propria bomba a oroleggeria come era anche prevedibile immaginate che fin da piccola aveva sempre provato molto rancore e molta rabbia nei confronti della sua stessa madre e con l'arrivo dell'adolescenza che già di per sé è un momento in cui i genitori in realtà vengono visti come dei nemici questo rancore si trasforma in un vero e proprio odio profondo arriviamo quindi a settembre del 2013 Kim ha solo 12 anni ed è l'inizio dell'anno scolastico la ragazza frequenta la Sir John Glead School di Spaulding una mattina durante la lezione di inglese un suo compagno di classe in preda a un momento di rabbia prende la sua sedia e la lancia in aria attraverso la classe quasi colpendo alcuni dei suoi compagni e questo gesto discutibile attira l'attenzione di Kim ma non nel senso che ne rimane stupita o spaventata ne rimane quasi affascinata l'autore di questo gesto un po' folle si chiama Lucas Markham e anche lui diciamo non è proprio un tipello tranquillo purtroppo non ho trovato molte informazioni su di lui giusto quelle che bastano per farci capire il motivo per cui anche lui è un adolescente problematico ovvero che anche lui non ha avuto un'infanzia molto tranquilla Lucas infatti è nato in un contesto molto simile a quello di Kim il padre aveva deciso di abbandonarlo praticamente al momento della nascita e sua madre ha perso la vita e l'ha persa quando lui aveva solo 4 anni non sono riuscito a trovare il motivo del decesso di sua madre ma in ogni caso Lucas è rimasto senza genitori e quindi senza nessuna guida penso che a quest'età debba essere davvero traumatizzante perdere ogni punto di riferimento perché la famiglia, i genitori nei primi anni di vita rappresentano tutto il nostro mondo davvero tutto Lucas è stato quindi assegnato a sua zia con cui però non ha mai instaurato un buon rapporto fin dall'infanzia infatti si è rivelato un ragazzino molto instabile e aggressivo sua zia per questo veniva costantemente convocata dalla scuola perché sua nipote magari finiva in mezzo a qualche rissa già alle elementari poi durante i primissimi anni di adolescenza gli episodi di violenza a scuola sono aumentati in maniera quasi incontrollabile al punto che Lucas un giorno verrà poi espulso dall'istituto ma di questo parleremo più avanti ora torniamo all'incidente avvenuto a settembre di quell'anno Kim non aveva mai notato Lucas fino a quel giorno il giorno in cui ha tirato la sedia in mezzo all'aula la ragazza quindi rimane totalmente affascinata da questa reazione così violenta del suo compagno e in pratica da quel momento si prende una cotta per lui proprio per via di questo comportamento questo però se ci pensate non è totalmente inusuale i due ragazzi venivano entrambi da famiglie problematiche tutti e due nutrivano molto odio verso il prossimo in generale proprio mettiamoci in mezzo anche l'età adolescenziale che alimenta il tutto e otteniamo due ragazzi molto arrabbiati che probabilmente sarebbero andati molto d'accordo quella è stata la prima volta che Kim ha notato Lucas e da quel momento i due avrebbero instaurato un forte rapporto di amicizia avevano un sacco di cose in comune tra cui l'odio per la scuola e per la loro famiglia cose che sarebbero state proprio dei pilastri del loro rapporto ricordate all'epoca dei fatti due hanno solo 12 anni la loro amicizia però dopo un paio di anni si trasforma in una vera e propria relazione e a maggio del 2015 quando i due hanno 14 anni si mettono insieme ufficialmente la loro relazione però non è quella tipica che vediamo negli adolescenti il famoso primo amore anzi per certi versi mi ha ricordato molto la relazione dei due protagonisti nella serie The End of the Fucking World non so se l'avete vista ad ogni modo il loro motto è noi due contro il mondo intero e ironia della sorte la serie è ambientata proprio in Inghilterra comunque Kim e Lucas hanno davvero tanto in comune a partire dalla loro situazione familiare fino ad arrivare al bullismo che entrambi subivano a scuola ma anche alla loro ammirazione verso la violenza in generale se ci pensate infatti ciò che ha attirato l'attenzione di Kim verso Lucas era stato proprio l'episodio di violenza durante la lezione di inglese ovviamente Elizabeth la madre di Kim non appena viene a conoscenza della relazione si dimostra subito riluttante e addirittura contraria non voleva che sua figlia frequentasse un tipo come Lucas un adolescente notoriamente problematico penso che visto dai suoi occhi da madre fosse una bruttissima influenza per la figlia che già di natura era un adolescente ribelle e scontrosa per non usare altri termini come potete immaginare questo non farà altro che allontanare ulteriormente Kim da sua madre che la vedrà ancora di più come una nemica anzi la sua nemica numero uno inoltre in quel periodo la ragazza confessa a sua madre che avrebbe voluto moltissimo incontrare suo padre e più volte le chiede di vederlo ma la donna glielo proibisce insomma questa situazione è un totale disastro perché in realtà Elizabeth fa di tutto per tenere lontana Kim da persone che potrebbero avere un'influenza negativa su di lei ma Kim ovviamente non la vede per nulla così anzi il suo pensiero è che la mamma voglia a tutti i costi metterle come i bastoni tra le ruote e in tutto questo la sorella minore Katie dà totale appoggio alla mamma schierandosi sempre e comunque dalla sua parte questo non fa altro che aumentare ancora di più la tensione tra le due sorelle e tra Kim e sua madre un giorno Lucas è a casa di Kim i due si trovano nella camera da letto della ragazza intenti a consumare un rapporto ma non erano da soli in casa la madre di Kim che era in casa con loro li scopre e va ovviamente su tutte le furie praticamente caccia via il ragazzo dalla casa e gli dice di non tornare mai più e di non contattare mai più Kim questo episodio però come ben immaginate crea l'effetto opposto in risposta Kim decide di scappare di casa dopo essersi incontrata con Lucas i due recuperano una tenda e si rifugiano in un bosco non molto distante dalla cittadina dopo aver recuperato anche diverse provviste di cibo e di acqua l'avviso di scomparsa viene emanato quasi subito e in tutta Spaulding vengono affissi dei volantini con le foto di Lucas e di Kim volantini che spronavano i cittadini a farsi avanti qualora avessero loro notizie i due alla fine vengono ritrovati dopo cinque giorni dalla fuga e vengono entrambi riportati alle loro rispettive case il loro ritorno però rappresenterà il totale declino per i due giovani le tensioni in casa saliranno alle stelle ed entrambi verranno sempre più bullizzati a scuola per i loro coetanei erano degli emarginati dei ragazzini un po' strani che erano addirittura scappati come degli sprovveduti solo per essere poi ritrovati qualche giorno dopo poco dopo il loro ritorno Lucas viene espulso dall'istituto quello che vi dicevo prima e però non sono riuscito a trovare il motivo però possiamo in realtà immaginare che il ragazzo abbia superato il limite dopo l'ennesimo episodio di violenza probabilmente era appunto un altro episodio simile a quello della sedia o magari qualche rissa Kim ovviamente è affranta da questa cosa dall'espulsione ma questo fatto in realtà non li allontanerà anzi in qualche modo li avvicinerà ancora di più e questa dinamica di noi due contro il mondo intero diventerà sempre più forte all'interno della coppia tant'è che Kim praticamente si trasferirà da Lucas e tornerà a casa sua solo per prendere qualche cosa ogni tanto mentre andavo avanti con la storia in realtà mi sono chiesto che ruolo avesse la zia di Lucas in tutto questo perché non si capisce se fosse d'accordo con la relazione se avesse parlato con Elizabeth e il rapporto tra i due adolescenti cioè qualcosa deve aver fatto questa povera crista però purtroppo non ho trovato proprio nulla da nessuna parte quindi non ho davvero idea di quale fosse la situazione a casa di Lucas penso che se Kim alla fine si è praticamente trasferita da fidanzato allora la zia di Lucas non era totalmente contraria alla loro relazione o alla loro situazione in generale però mi sembra troppo strano se voi sapete qualcosa di più fatemelo sapere perché questo punto della storia mi ha addestato non pochi dubbi comunque tornando a noi un giorno accade una cosa che sarà praticamente la goccia che fa traboccare il vaso Kim torna a casa sua per recuperare dei vestiti e scopre che camera sua è completamente spoglia tutte le sue cose e i suoi vestiti si trovavano in grossi sacchi neri della spazzatura avete presente quando eravamo piccoli e nostra madre magari ci minacciava di buttarci tutte le cose se non avessimo messo a posto la camera? ecco Elizabeth l'ha fatto davvero ma per un altro motivo ovviamente non so se il suo intento fosse davvero quello di buttare tutte le sue cose io credo davvero di no penso che il suo obiettivo fosse magari quello di spaventare un po' Kim e di darle una sorta di ultimatum come a dire se decidi di andartene di nuovo di addio a tutte le tue cose ma Kim come al solito non la prende per niente bene e vede questo comportamento come un vero e proprio affronto da parte di sua madre scopre inoltre che alcuni suoi vestiti erano stati presi da sua sorella Katie e come sapete non c'è cosa più pericolosa di due sorelle adolescenti che si rubano i vestiti insomma quel giorno la ragazza va davvero fuori di testa e dopo aver fatto una scenata allucinante decide di andarsene di nuovo e di tornare da Lucas che ai suoi occhi era l'unico al mondo in grado di ascoltarla e di capirla quindi una volta con lui gli confessa quello che era appena successo e penso ma ovviamente è una mia considerazione che la ragazza abbia in realtà ingigantito un po' la cosa proprio per far sembrare sua madre un mostro che cercava in tutti i modi di rovinarle la vita e il ragazzo in tutta risposta dice una cosa che una persona normale interpreterebbe come scherzosa nel senso qualcosa che nessuno prenderebbe sul serio il problema è che Kim in quel momento era talmente arrabbiata che non ci ha pensato un attimo e ha dato retta a quello che le aveva appena detto il suo fidanzato che tra l'altro è una cosa che nessuna persona sana di mente direbbe neanche ma vabbè dopo il suo sfogo Lucas le aveva proposto di uccidere sua madre Elizabeth e lei ha subito detto di sì senza pensarci in realtà poi però subito dopo ci ha pensato anzi ci hanno pensato e la cosa più sconcertante è che nessuno dei due ha cambiato idea da quel momento i due adolescenti cominciano a premeditare l'omicidio all'inizio potevano sembrare solo chiacchiere ma in realtà poi la cosa è diventata sempre più concreta al punto che Kim e Lucas si sono incontrati in un McDonald's della zona per organizzare il tutto in un McDonald's così in un luogo in cui di solito i ragazzini vanno per parlare del più del meno per fare i compiti perché cavolo ne so loro invece erano lì per pianificare un omicidio l'omicidio della stessa madre di una di loro insomma da qui capiamo che i due adolescenti non stessero dando il giusto peso alla situazione tra l'altro non si preoccupavano minimamente che qualcuno potesse sentirli a quanto pare o forse le persone intorno a loro comunque credevano che i due stessero davvero scherzando perché in fondo si trattava di due adolescenti giovanissimi che probabilmente scherzavano purtroppo però come ben immaginate Lucas e Kim ormai avevano preso una decisione la notte del lunedì 11 aprile 2016 è il momento in cui i due ragazzini pianificano di uccidere Elizabeth il piano però non consiste più nell'uccidere solo la madre ma anche la sorella minore di Kim Katie che ovviamente era vista anche lei come una nemica le cose però non vanno subito come previsto Lucas esce da casa sua rubando quattro coltelli da cucina percorre il breve percorso che separa casa sua da quella di Kim e bussa alla finestra del bagno la ragazza avrebbe dovuto trovarsi lì all'arrivo di Lucas ma in quel momento non gli risponde nessuno il ragazzo rimane qualche minuto continuando a bussare di tanto in tanto ma poi pensando che Kim si fosse addormentata decide di andarsene e qui arriviamo alla prima cosa strana di tutto questo piano perché mi sembra assurdo che Kim stesse davvero dormendo cioè secondo me in questi casi l'adrenalina non ti permette proprio di dormire poi era una cosa che stavano pianificando da giorni e il fatto di essersi addormentata secondo me non penso sia plausibile penso più che altro che Kim in quel momento ci avesse ripensato ma non sapeva come dirlo a Lucas il giorno seguente quindi il 12 aprile Lucas esce di nuovo in piena notte con i quattro coltelli da cucina e torna a bussare alla finestra del bagno di Kim ma di nuovo nessuna risposta arriviamo così al 13 aprile lo scenario è lo stesso dei giorni precedenti Lucas esce di casa si dirige a casa della sua fidanzata e bussa un paio di volte alla finestra sfortunatamente però quel giorno Kim va ad aprire e purtroppo questo sarà il giorno in cui i due ragazzi metteranno in atto il loro piano Kim fa entrare Lucas nel bagno e gli dice di togliersi le scarpe per non fare rumore il ragazzo quindi recupera uno dei coltelli dallo zaino esce dal bagno e si dirige verso la camera da letto di Elizabeth entra di soppiatto e senza fare nessun rumore si accanisce subito sulla povera donna che intanto stava dormendo prima di tutto l'accolo la due volte alla gola recidendole la trachea Elizabeth quindi si sveglia di soprassalto e con le ultime forze rimaste mette le mani davanti alla faccia per difendersi ma Lucas continua a colpirla in quel momento Kim entra nella stanza e si avvicina al letto mentre Lucas la stava ancora colpendo e fa una cosa che veramente non riesco a descrivere Kim prende la mano di sua mamma e gliela stringe quasi come a confortarla come a dirle tranquilla a breve sarà tutto finito ragazzi questa parte davvero mi ha fatto venire la pelle d'oca perché è una scena molto difficile da immaginare e da digerire stringere la mano della propria madre sapendo che quella sarà l'ultima volta per causa tua dio mio è straziante davvero una cosa molto crudele e se pensiamo che tutto ciò è stato fatto da due ragazzini di solo 14 anni mette ancora di più i brividi alla fine Elizabeth riceve comunque in totale 8 coltellate e subito dopo l'aggressione Lucas sale sul letto prende un cuscino e glielo preme sulla faccia fino a quando la donna non rimane completamente immobile sotto di lui ormai senza vita il ragazzo poi aspetta qualche secondo controlla il polso della donna e dopo aver avuto la certezza che fosse morta decide di andare nella stanza a fianco dove intanto stava dormendo la sorella più piccola di Kim Katie il ragazzo si avvicina furtivamente a letto e accolterla anche lei diverse volte alla gola dopo di che la soffoca con un cuscino in quel momento Kim ha un brutto attacco di panico ed esce nel corridoio cominciando a camminare avanti e indietro nervosamente così Lucas si avvicina a lei per confortarla carino eh dio mio dopo aver ucciso Elizabeth e Katie i due decidono di farsi un bagno per lavare via tutto il sangue dopo di che recuperano il materasso di Katie e lo trascinano fino al piano di sotto penserete voi che sia qualche strategia per nascondere le prove qualcosa che ha a che fare con un piano per magari depistare le indagini magari inscenare una rapina finita male o qualcosa del genere prendono il materasso lo spostano lo mettono da qualche parte per far sembrare no i ragazzi portano giù il materasso lo posizionano davanti alla televisione ci si siedono sopra e insieme guardano i primi tre film di Twilight mentre mangiano dolci e gelato io ragazzi sono rimasto senza parole questo ovviamente è il motivo per cui vengono chiamati i killer di Twilight il piano però il loro piano originario non si limitava solo all'uccisione di Katie e Elizabeth i due innamorati infatti avevano pianificato di suicidarsi il giorno successivo alle 2 di pomeriggio Kim aveva anche lasciato un biglietto con scritto voglio che le mie cenerie quelle di Lucas siano disperse nel nostro posto speciale da Lucas e Kim non ce ne frega più un cazzo questo doveva essere il tragico epilogo che i due avevano pianificato tuttavia il giorno successivo una volta arrivata l'ora di farla finita i due cambiano idea decidono invece di guardare il quarto film di Twilight oddio raga c'è sempre qualcosa di estremamente disturbante nei comportamenti di ragazzini così giovani che uccidono cioè sempre ve lo giuro la cosa che mi mette sempre i brividi in questa situazione è la totale freddezza degli assassini e loro in particolare erano consapevoli di avere i cadaveri delle vittime in casa e hanno continuato a fare le loro cose come se nulla fosse si sono guardati dei film il 14 aprile Kim e Katie non si presentano a scuola così come Elizabeth non si presenta a lavoro e questo destra subito parecchi sospetti colleghi e amici di Elizabeth si allarmano subito non vedendola presentarsi a lavoro e venendo a conoscenza che anche le sue figlie risultavano assenti da scuola pensano subito tutti al peggio Elizabeth lavorava in una scuola elementare come insegnante e tutti quelli che la conoscevano affermano che la donna amava con tutto il cuore il suo lavoro amava stare in mezzo ai bambini e insegnare loro cose nuove saltare il turno di lavoro senza avvisare non era proprio da lei il giorno successivo quindi il 15 aprile di nuovo non vedendo arrivare Elizabeth a lavoro e notando che non rispondeva a nessuna chiamata i suoi colleghi e il suo capo decidono di contattare la polizia per informarli dell'accaduto chiedendo anche se fosse possibile magari recarsi a casa sua per verificare che fosse tutto a posto la polizia conosceva già la famiglia perché se vi ricordate era già stato emanato un avviso di scomparsa per Kim mesi prima quando aveva deciso di fuggire insieme a Lucas così una pattuglia si dirige subito a casa di Elizabeth e fa il giro dell'abitazione per vedere se all'interno ci fosse qualche movimento ma l'unica cosa che sentono gli agenti è l'abbaiare di un cane sì perché la famiglia Edwards aveva un cane e non preoccupatevi il cane stava bene benissimo più o meno Kim e Lucas però non gli avevano fatto del male i sospetti comunque aumentano quando i poliziotti bussano numerose volte alla porta e non ottengono alcuna risposta è a quel punto che allora chiedono i rinforzi e decidono di sfondare la porta entrando nell'abitazione vedono subito Kim e Lucas rannicchiati sopra il materasso in soggiorno intenti a guardare la tv sembravano totalmente sconnessi dalla realtà e ignari di tutto quello che stava succedendo intorno a loro i poliziotti riconoscono subito Kim sempre per via della scomparsa e riconoscono subito anche Lucas per lo stesso motivo chiedono quindi ai due ragazzi dove fossero Elizabeth e Katie e Kim con tono calmo e privo di emozioni risponde semplicemente di sopra i due adolescenti in quel momento sono del tutto sconnessi e sembrano proprio non capire la situazione un po' come se fossero chiusi nella loro bolla subito dopo Lucas guardando il poliziotto fisso negli occhi aggiunge perché non vai a controllare tu stesso la gente a quel punto ha una bruttissima sensazione e il suo sesto senso gli dice che di sopra avrebbe trovato qualcosa di raccapricciante i poliziotti quindi salgono le scale e arrivano così davanti alla camera di Elizabeth e quello che si trovano davanti è uno scenario decisamente raccapricciante nella camera da letto c'è il corpo senza vita della donna completamente ricoperto di sangue c'è sangue ovunque sul pavimento sulle pareti addirittura qualche schizzo sul soffitto tutta la stanza è letteralmente un bagno di sangue nella stanza accanto poi trovano il corpo di Katie anche lei completamente ricoperta di sangue gli agenti arrivano così alla conclusione che queste donne non erano misteriosamente scomparse ma erano state uccise da Kim e dal suo fidanzato che intanto erano di sotto a guardare la tv tranquillamente i due quindi vengono immediatamente arrestati con l'accusa di omicidio e portati in centrale di polizia all'interrogatorio vengono ascoltati separatamente e i loro atteggiamenti saranno molto diversi durante le confessioni Kim si dimostrerà come un libro aperto con gli ufficiali mentre Lucas parlerà pochissimo e si prenderà semplicemente oddio si prenderà la responsabilità degli omicidi senza dare però molte spiegazioni Kim durante la sua dichiarazione dirà queste parole non sono mai andata d'accordo con mia mamma ho sempre saputo che voleva più bene a mia sorella che a me diceva di no ma sapevo che stava mentendo parlavano un sacco ogni volta che litigavo con mia mamma Katie prendeva sempre le sue parti Lucas odia vedermi arrabbiata e triste e per questo neanche a lui piacevano mia madre e mia sorella mi sono liberata del mio problema principale che mi faceva stare male cioè mia mamma è stato un sollievo nelle parole della ragazza non c'è alcun rimorso gli agenti rimangono completamente scioccati da tutta la vicenda soprattutto per l'età dei due due quattordicenni che a quell'età avrebbero solo dovuto preoccuparsi di andare a scuola e di divertirsi con gli amici invece avevano già ucciso due persone e non solo ucciso perché l'omicidio era stato premeditato anche se oddio la loro premeditazione al McDonald's era perfettamente in linea con la loro natura ancora un po' infantile giusto? il fatto che non si preoccupassero affatto di essere sentiti e che anche dopo l'arrivo della polizia fossero rimasti straiati sul materasso come se in casa non ci fossero due cadaveri non lo so è semplicemente agghiacciante tutto questo tutta questa storia mi ha davvero angosciato perché nessuno penserebbe mai che a quell'età si possa arrivare a compiere un gesto simile la dottoressa e psicologa infantile Alice Jones dopo essere venuta a conoscenza di questo caso ha voluto esprimere la propria opinione riguardo tutta la vicenda Alice Jones è esperta dello sviluppo di comportamenti antisociali in bambini problematici e a suo dire i bambini e gli adolescenti che uccidono spesso hanno comportamenti violenti già prima dell'omicidio la professionista crede che ci siano dei segnali e dei fattori di rischio che possono indicare l'intenzione di portare davvero a compimento quelle che sembrano solo minacce lei afferma che il fattore di rischio avviene quando i bambini e gli adolescenti hanno comportamenti aggressivi e allo stesso tempo non sembrano dare importanza ai sentimenti altrui che se ci pensiamo è proprio il caso di Kim e Lucas infatti per tutto il tempo sembrava davvero che a loro non importasse di niente e di nessuno oltre che del loro piccolo mondo nel novembre del 2016 il tribunale di Nottingham ha condannato Lucas Markham e Kim Edwards all'ergastolo sono la coppia di assassini più giovane della Gran Bretagna il giudice un uomo di nome Justice Haddon ha sottolineato l'assenza di rimorsi mostrata dalla coppia dopo aver commesso il crimine e l'alto livello di organizzazione e premeditazione il giudice rimarrà colpito da tutta la vicenda e dichiarerà che questo caso senza precedenti è stato sotto ogni punto di vista un crimine commesso in modo pianificato e meticoloso gli omicidi sono stati eseguiti in modo brutale ed entrambe le vittime hanno sofferto terribilmente nei loro ultimi momenti di vita sia Lucas che Kim dovranno scontare un minimo di 17 anni e mezzo di carcere anche se il giudice Haddon crede che probabilmente almeno uno dei due starà dentro per molto più tempo il motivo è che le difficoltà che si incontrano durante il recupero di bambini e adolescenti con tendenze violente e psicopatiche non è indifferente ed è molto difficile poi reinserirli nella società ovviamente usciranno solo una volta in grado di essere appunto reintrodotti nella società cosa non scontata e questo era il caso dei killer di Twilight che cosa pensate poi di questa vicenda? anche voi siete rimasti sconcertati dal loro comportamento secondo me questo caso è il perfetto esempio di come i traumi profondi non affrontati possano portare da subito a conseguenze disastrose se in qualche modo anche oggi vi è piaciuto passare del tempo con me vi invito a mettere un mi piace a questo video oppure un non mi piace se invece non vi è piaciuto che vi devo dire intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di una ragazza che faceva contenuti su OF il sito bianco e azzurro e che ha fatto qualcosa di decisamente grave spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi non dimenticatevi di iscrivervi e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare qui trovi il video che youtube pensa ti piacerà e ricorda che youtube non si sbaglia mai e qui invece trovi la playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e ultimamente sto postando molti cazzi miei infatti basta no scherzo e niente vi ringrazio ancora per essere stati con me vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao